Benvenuti amici da queste parti, parliamo anche noi di Juventus oggi, sapete tutti quello che è successo nella serata di ieri. Noi però lasceremo da parte quello che è politica, ovvero la parte non sportiva della Fer Juventus, tutto quello che riguarda la borsa, l'indagine della Consob, della magistratura, l'alternanza di dirigenti, le dimissioni del Consiglio di Amministrazione. Io credo che tutto questo sia ovviamente importantissimo, ma a quello che poi guarda lo sport, al tifoso, all'appassionato, interessi fino a un certo punto. La domanda che tutti si fanno è, sì va bene tutto ciò, ma la Juventus dal 4 di gennaio come ripartirà in campionato? Eh sì, perché ci sono tantissime caselline, sapete quelle del calendario dell'avvento, quelle da aprire, in questo caso sono da chiudere per cercare di comprendere quello che succederà nella seconda parte del nostro abnorme torneo con l'intervallo dei mondiali in Qatar. Una Juventus che deve riparare qualcosa, perché il brodino, il piccolo aiuto arrivato dalla serie di vittorie, del filotto di vittorie nel nostro campionato, non deve imbrogliare, non deve tradire. Sono vittorie importanti, però ottenute con squadre ampiamente alla portata per usare un filmismo della Juventus. I problemi che hanno tolto la Juve dalla Champions e l'hanno relegata in Europa League e hanno fatto perdere alla Juve gli incontri importanti, tranne quello in casa con l'Inter, quei problemi ci sono ancora e devono essere risolti quando e come col calcio mercato. E sì, perché in gennaio, oltre ad iniziare la seconda parte del nostro torneo di calcio, inizia anche la fase che tutti definiscono di riparazione del calcio mercato. Dove dovrà intervenire la Juventus? Domanda molto complicata, perché ha una risposta molto complessa in tantissimi settori. Ma avrà i soldi per farlo con il nuovo corso, dopo che per la terza volta il bilancio della Juve non è stato approvato dal Consiglio di amministrazione che poi si è dimesso? Questo è un grosso punto di domanda, perché sarà di riparazione, ma su quel calcio mercato servono i soldi per cercare di muoversi e acquisire giocatori. Verranno ceduti anche degli giocatori, dei calciatori, che non servono più, perché la squadra era stata fatta per reggere in Champions, adesso c'è l'Europa League, sicuramente meno impegnativa. Chi potrebbero essere i partenti? Qualcuno, anzi molti dicono i due argentini di Maria e Paredes, arrivati come salvatori della patria, gli anziani che avrebbero dovuto tenere sull'impalcatura, di Paredes è meglio non parlare, perché è veramente stato un fantasma, di Maria, sfortunato, il poco che ha giocato lo ha fatto anche bene. Però è un contratto pesante, di un anno e potrebbe essere chiesta da parte dell'EU, magari la transazione di questo contratto di Maria, che si potrebbe sistemare in qualche altra situazione, pur portandosi a casa degli ottimi soldi da parte dell'EU. Insomma, è un bel casino, mettiamola in questo modo, anche perché al di là dei soldi non si capisce chi andrà direttamente sul calciomercato. Si dice che Cherubini possa rimanere per questo periodo di transazione, così come arriva bene per quanto riguarda appunto il lato economico sportivo. Però anche qui i dubbi arrivano, perché nel casino della Juventus ci sono dentro, casino sportivo, dei risultati non ottenuti, ci sono ovviamente dentro anche l'amministratore delegato, vero riba bene, e il direttore sportivo. Tutto questo praticamente cosa fa? Rende ancora più nebulosa una situazione che ha ormai 24 ore, poco meno, dalle dimissioni del CDA, non si è schiarita assolutamente. Per chiudere, io credo che, così come in Ferrari, anche alla Juve, la prima cosa da fare è trovare un dirigente sportivo. In Ferrari un team principal, alla Juventus un general manager, alla Marotta, tanto per capirci, che riescono a prendere in mano la situazione e che programmino la stessa per il futuro a breve, medio termine. Questa è la prima cosa da fare. Per adesso, su questo fronte, tutto tace. A domani.